Non è ricordato abbastanza il sacrificio dei militari italiani che nella drammatica battaglia che diede poi via alla ritirata si sacrificarono per consentire a quelli che poterano poi raggiungere le retrovie e quindi poi di nuovo l'Italia. Il numero di morti fu altissimo, ma quello che ci piace ricordare non solo la tragedia della guerra, ma anche l'eroismo di chi in quella circostanza non si risparmiò per dare speranza ai propri commilitoni di poter tornare alle loro famiglie. Il film che abbiamo visto è dedicato alle mogli, alle madri, ai figli di coloro che non sono tornati ed è nella loro memoria, nel loro ricordo che ci associamo a questo evento e a questa giornata che li vuole celebrare.